eccoci qua i nostri eroi dopo un altro bo di su e giù sono arrivati al rifugio saldini e questo pezzettino non è stato niente male ultima rampa ed ecco il bandiere del saldino è stata dura ma ce l'abbiamo fatta eccoci qua wow salvin rifugio saldini metri mille e cinquecento vai silvano vai che ti fai di nuovo il bichelladvini